ciao mamma e ciao bambini ciao papà allora oggi prepariamo insieme un ciambellone allora gli ingredienti per il ciambellone le uova lo zucchero la farina il pane degli agli lievito un bicchiere di acqua mezzo bicchiere di olio poi abbiamo preso il burro per metterlo nelle ci mettiamo un pochino di farina per non farlo attaccare allora adesso prepariamo il tutto allora dobbiamo rompere tre uova mi raccomando dopo che avete rotto le uova di cavate le mani mettiamo il zucchero sono tre uova 250 grammi di zucchero e dobbiamo girare ora ci mettiamo 250 grammi di farina piano piano ci mettiamo un bicchiere d'acqua mezzo bicchiere d'olio di oliva extravergine e poi il lievito abbiamo una bustina di pane degli angeli e dobbiamo amalgamarlo uniformemente bene ora cambiamo le mesie e ragazziamo porc'era oh Adesso la mettiamo in forno a 170 gradi per 25 minuti. Ecco qua, il nostro dolce è fatto, il dolce è pronto, buon pomeriggio, buona merenda, un bacio da Sandra, alla prossima ricetta, baci baci! Grazie!